Ciao, sono Cecilia Sardao, fondatrice di Biz Academy e ti do il benvenuto ad una nuovissima puntata di Impact Girl dedicata alle strategie di marketing e comunicazioni di successo per riuscire a far partire la propria attività. In altre parole, come possiamo sviluppare un piano d'azione efficace che ci aiuti ad avviare un progetto imprenditoriale. Lo faremo come sempre con un ospite d'eccezione, ma prima di rivelarti di chi sto parlando, ti invito ad iscriverti al canale YouTube attivando le notifiche, cliccando sulla campanellina che trovi accanto alla scritta iscriviti, oppure se stai guardando questo video dal sito biz-academy.it slash podcast, ti invito ad iscriverti via mail per ricevere via mail gli aggiornamenti relativi ai nuovi podcast in uscita, così da non perderti neanche una puntata. Cominciamo! Benvenute ad una nuovissima puntata di Impact Girl. Oggi scopriamo insieme la mappa che possiamo seguire per sviluppare una strategia di marketing e di comunicazione di successo e come fare perché questa mappa ci aiuti a raggiungere la realizzazione di un grande sogno. Lo faremo con qualcuno che questa mappa l'ha creata ed è riuscita a seguirla con grande successo. Mary Francese, ciao Mary. Ciao Cecilia, grazie mille. Grazie per essere qui con noi. Grazie a te per l'invito e soprattutto per l'opportunità di parlare della mia esperienza, della nostra esperienza. La tua esperienza mi ha colpito davvero molto. Tu Mary sei co-founder di Neuron Guard, che è una start-up di successo nel settore biomedicale. È un successo che è stato raggiunto peraltro in pochi anni, perché se non sbaglio è dal 2013 che avete cominciato ad ideare questo prototipo di cui ci parlerai a breve. La cosa che mi ha colpito molto è stato il fatto che tu sia riuscita a raggiungere questo successo insieme al tuo socio in un settore così complesso, così articolato, così poco femminile peraltro, ahimè. Tu sei riuscita a farlo non soltanto grazie alle caratteristiche particolari e estremamente efficaci del prodotto, quanto soprattutto attraverso una strategia di comunicazione ben studiata e sicuramente, poi forse questo me lo confermerai, molto costante. Quindi una strategia che hai sviluppato a tavolino, ma che poi hai portato avanti con estrema resilienza e con grande pazienza, e che vi ha permesso di essere riconosciuti nel vostro sforzo da varie autorità di settore, e fra cui anche l'Università di Cambridge. Sì, confermo tutto. Faccio solo una piccola descrizione di quello che appunto abbiamo creato. Noi siamo partiti ormai sei anni fa. Io e il mio socio Enrico Giuliani ci siamo conosciuti durante un programma d'accelerazione, quindi prima non avevamo assolutamente idea l'uno dell'altra e abbiamo inventato e brevettato un sistema di gestione della temperatura da utilizzare in caso di danni cerebrali acuti. Quindi mi riferisco al trauma cranico, all'ictus o all'arresto cardiaco. In questi anni i passaggi che sono stati fatti sono molteplici, dall'idea all'implementazione, alla proprietà intellettuale, al fatto di appunto individuare degli interlocutori che fossero in grado di aiutarci, sostenerci lungo questo percorso. Naturalmente quello che ci ha insegnato questa esperienza in questi primi sei anni, a prescindere da un progetto che sia medicale o che non sia medicale, il contatto continuo con gli interlocutori, comunque avere una strategia di comunicazione, di marketing ben definita sin dall'inizio, ti permette anche di superare tutti gli ostacoli che poi di volta in volta si incontrano lungo il percorso. Naturalmente per fare degli esempi come posso, per trasmettere anche dei messaggi. Noi inizialmente eravamo partiti da fare alcuni test in laboratorio appunto in Italia e volevamo una volta raggiunto un prototipo ben definito di dispositivo provare a testarlo appunto sull'uomo. Questo però per un dispositivo medico di classe 2b come il nostro non è stato possibile perché ci sono alcuni comitati etici che non consentono l'utilizzo di un dispositivo non certificato all'interno appunto di uno studio. Quindi grazie al contatto alle esperienze precedenti anche di Enrico in Inghilterra e al definire anche una strategia di comunicazione globale internazionale sin dall'inizio ci ha permesso poi di arrivare all'università di Cambridge e a diversi interlocutori. Questo anche grazie ad una partecipazione, mi riferisco nel 2014, di Enrico ad una fiera a Tel Aviv, quindi quanto è strano il mondo quando appunto siamo partiti dall'Israele, lì ha fatto visita allo stand dell'NHS appunto l'ente sanitario di riferimento dell'Inghilterra e da lì poi sono nati tutti i contatti quindi per la serie Homo Faber Fortunae Sue. Quando si cercano delle opportunità, delle opportunità poi possono nascere tante di quelle occasioni che sta all'uomo poi sfruttarle in nuovi punti, nuovi traguardi e nuovi obiettivi. Ti chiedo Mari quanto della vostra strategia di marketing e comunicazione soprattutto di quella che tu hai sviluppato in prima persona è stato pianificato prima di partire e quali sono le pietre miliari di questa pianificazione e quanto invece è arrivato appunto come in questo caso con la partecipazione a questa fiera quasi casualmente? Diciamo che è stata definita sin dall'inizio perché appunto Neuron Guard essendo frutto di un programma d'accelerazione era uno delle cose, uno degli obiettivi appunto da portare avanti, definire una strategia di comunicazione dove individuare tutti i nostri clienti, fornitori e gli interlocutori appunto di riferimento. I cambiamenti ci sono stati continuamente anche perché noi partivamo da un progetto medicale dove i dispositivi da voler portare sul mercato erano due inizialmente, un collare terapeutico e un sistema di infusione. Il collare terapeutico è un dispositivo medico, un sistema di infusione ha a che fare più con il mondo farma, quindi gli interlocutori anche di riferimento erano diversi, non solo le aziende medicali ma anche le aziende farmaceutiche. Quando poi abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione tutto sul progetto medicale, naturalmente gli interlocutori sono cambiati, quindi c'è stata una ridefinizione della strategia di comunicazione e della strategia appunto di marketing. Il mio suggerimento quindi appunto quello che posso dare è quello di adattarsi sempre a quello che è lo stato attuale dell'azienda, ovvero quali sono gli obiettivi che sono stati raggiunti e in funzione degli obiettivi raggiunti sono ancora coerente con la strategia di marketing che avevo appunto definito. Gli interlocutori che avevo deciso un mese fa se c'è stato qualche cambiamento all'interno del progetto sono ancora quelli giusti, cioè in un progetto appunto come il nostro dove il mercato, il dispositivo ancora non è sul mercato, il rivedere la strategia è un elemento che deve essere fatto continuamente e anche per le aziende che sono già sul mercato quando si cerca anche di fare qualche cambio di direzione questo è comune, però nel nostro caso ancora di più. Naturalmente avere le idee chiare, avere degli interlocutori che possono essere definiti chiave, ma naturalmente essere sempre coerenti con quello che il mercato chiede in quel momento. Assolutamente, ci fai un esempio concreto di come hai proprio, di che cosa nella tua strategia di comunicazione è cambiato quando hai capito che avevi un interlocutore diverso a cui rivolgerti? È cambiato quando noi in questo momento grazie ai primi test che abbiamo condotto appunto sull'uomo, su dei volontari sani, siamo riusciti ad individuare un altro mercato di riferimento, nel senso che la gestione della temperatura ormai non è praticata solo a livello medicale, ma anche in un ambito sportivo. Ci sono tanti atleti che appunto prima di qualunque competizione decidono di fare un raffreddamento, tipo c'è la criotermia, l'immersione in delle vasche di ghiaccio o ancora il voler mettere degli indumenti in delle vasche di ghiaccio e poi indossarli per avere una maggiore concentrazione. Quando c'è stato questo cambiamento quindi e un interlocutore dell'ambito sportivo si è avvicinato a noi, in quel momento siamo stati costretti a fare una pianificazione completamente diversa, che comunque fosse in linea sempre con la tecnologia, ma dove gli interlocutori di riferimento non erano più gli ospedali o le cliniche o i centri di ricerca, ma delle aziende interessate ad avere una nuova tecnologia come la nostra. E questo è successo lo scorso anno. Naturalmente la strategia vera e propria è una strategia organizzata, pianificata, internamente, non ancora divulgata anche perché questo è un progetto ancora strettamente riservato. Ecco il motivo per il quale sono sempre molto, tengo molto alla riservatezza su questa cosa qui perché è un progetto su cui noi teniamo tanto, però quando partiremo poi con la strategia di comunicazione vera e propria sui social o sul sito internet potremmo dare riscontro di quello che appunto è stato fatto. Però il segnale è appunto questo, quando l'interlocutore di riferimento cambia è giusto che ci sia un adeguamento a quelle che sono le esigenze del mercato. Fantastico e da un punto di vista proprio super pragmatico il raggiungere questi interlocutori è avvenuto tramite, e ti faccio proprio una domanda basica perché magari è proprio lì che qualcuno dice, oddio ma io da dove parto? Ho individuato i miei interlocutori, ma che cosa faccio? Le chiamo al telefono, vado a suonarci il campanello, mando loro un kit particolare con determinate caratteristiche del mio prodotto e dove inserisco la mia call to action in maniera tale che queste persone possano effettivamente dire ok, questa cosa ci può interessare. Naturalmente quello che ci ha aiutato è stato l'aver partecipato a diversi contest per per start up, o la partecipazione a fiere, eventi dedicati, o anche delle tavole rotonde dove i nostri interlocutori di riferimento partecipano. Quello deve essere un primo momento in cui io riesco, anche mediante una domanda, o anche lo scambio di un bigliettino di visita per un intervento che c'è stato durante una tavola rotonda o altro, è un modo per cercare di avvicinarsi a questo interlocutore. Ho anche il consiglio che do sempre è quello di fare rete, conoscere quanto più persone possibili, perché il network, o comunque la condivisione della propria esperienza senza la paura che qualcuno possa rubarcela, è la cosa principale in questo settore, a prescindere dal settore anzi. Perché un contatto che magari oggi noi definiamo non utile, o comunque utile non è la parola giusta, ma non affine a quello che stiamo facendo, un domani si potrebbe rivelare in realtà il contatto chiave. Quindi condivisione continua della propria idea mediante la partecipazione a eventi, o anche la condivisione della propria esperienza professionale con le altre persone, conoscere sempre nuovi utenti e non fermarsi mai solo al mercato italiano, perché quello naturalmente dipende dal settore di riferimento. Ma pensare globalmente, sin dall'inizio, sin dal primo giorno in cui la prima penna viene messa appunto su un foglio, è un punto chiave per il successo di un progetto. Quindi qui stavo pensando che spesso i suggerimenti che ho ricevuto quando sono partita erano invece di natura opposta. Comincia a livello locale e poi pensa ad espanderti a livello globale, perché altrimenti rischi di disperderti, di scoraggiarti, perché parti subito con una prospettiva molto più ampia. Invece tu ci stai dicendo partire da una prospettiva più ampia ci apre gli orizzonti. Poi però ci può anche scoraggiare, perché magari cominciamo a ricevere i primi no, cominciamo a ricevere le prime obiezioni a quello che è il nostro sogno. A quel punto quando è che è il momento dove capisci e dove hai capito quando è successo a te se era il caso di ascoltare quelle obiezioni e riceverle come feedback e magari cambiare strada o dire no, questa è la mia strada e io continuo a prescindere da tutte le difficoltà che posso incontrare. Beh, il nostro approccio è stato sempre top down, nel senso che parto dal grande, dal più ampio, per poi scendere man mano a cascata e raggiungere appunto di riferimento quello più piccolino. I feedback che abbiamo ricevuto sono stati molteplici, sia da un punto di vista di fundraising o di contatti anche con gli ospedali di riferimento o ancora con i centri di ricerca o con qualche azienda con la quale volevamo appunto chiudere qualche collaborazione che poi non si è rivelata, non appunto non siamo riusciti a chiudere. Il mio suggerimento è quello di ascoltare sempre tutti i feedback che riceviamo, perché qualunque feedback messo in relazione a quello che è il nostro piano di azione appunto ci consente di capire se è coerente o non è coerente con quello che stiamo facendo. Poi io credo anche molto nel pato generazionale, nel senso che le persone che hanno molta più esperienza di noi hanno sempre qualcosa da insegnarci ed è una cosa reciproca. Quando c'è un confronto, anche una chiacchierata, sempre porsi in un'ottica win-win, ovvero io ho qualcosa da condividere con questa persona, questa persona ha qualcosa da condividere con me, cerchiamo appunto di trovare una relazione che ci consenta quindi di fare in modo che questo dialogo possa essere quanto più utile possibile. Quindi i feedback negativi ricevuti sono stati ad esempio, proprio per portare una cosa, un esempio pragmatico nel nostro caso, è quando un fondo di investimento ha deciso di non chiudere nei nostri confronti appunto un primo round. Per quale motivo? Perché la proprietà intellettuale era ancora, mancavano ancora degli elementi di proprietà intellettuale, ora abbiamo sei brevetti, mancavano ancora gli studi e anche il laboratorio. In quel momento non abbiamo visto quei feedback come negativi o come un ostacolo, ma come dire ok, facciamo in modo di trovare le risorse necessarie per raggiungere questi obiettivi, per poi ripresentarci a questi interlocutori in un modo molto più forte. Naturalmente io credo, ok, ostacolo, non esistono ostacoli, esistono delle opportunità o comunque dei gradini che di volta in volta noi decidiamo di salire per raggiungere la vetta più alta della nostra scalinata. Come trovi o hai trovato anche in passato la motivazione a, mi viene da dire, ad andare avanti nel senso di dire ok, ho ricevuto questi feedback, per riuscire ad integrarli tutti mi ci vorrà un certo arco temporale. Come hai mantenuto la motivazione? Sapendo, io sono una persona molto impaziente soprattutto nell'approccio che ho a tutti i progetti imprenditoriali che le porto avanti. Non so se è tipico femminile, non ne ho la più pallina idea o se è semplicemente una caratteristica personale, però faccio molta fatica, cioè devo fare proprio uno sforzo consapevole per integrare i feedback e soprattutto per accettare l'arco temporale che richiederà integrarli tutti prima di riprovare la stessa strada. Io ero una persona fortemente impaziente, anche perché secondo me rientra un po' nel modo superante di noi donne, vogliamo tutto e subito, perché quando ci dedichiamo ad una cosa sappiamo di metterci il massimo in quello appunto che stiamo facendo, ma il settore medicale è un settore con tempi così tanto lunghi che è impossibile essere impaziente, scusate il gioco di parole, ma è veramente così. Per solo un'approvazione di uno studio clinico, faccio un esempio, occorre non solo la stesura di un protocollo scientifico, ma anche l'approvazione di un comitato etico e passano mediamente dai 3 ai 6 mesi, lo studio poi dura altri 6 mesi. Questo tempo in realtà che qualcuno vede tra virgolette morto ci ha portato poi a riflettere, ci ha portato intendo me e appunto il mio socio, che è un medico quindi abituato a questi tempi, a decidere come sfruttare questo lasso di tempo e quindi l'unione, il fatto di lavorare sempre intimo con delle persone che hanno delle competenze diverse rispetto alle tue, hanno anche un modo di agire diverso, ci ha portato a pensare ad altre applicazioni nel nostro progetto. Quindi mai essere impazienti perché il nostro interlocutore di riferimento potrebbe avere dei tempi che sono diversi dai nostri e potremmo anche rischiare di mancare di rispetto alle persone che potrebbero essere dei nostri interlocutori di riferimento. Qualcuno in America parla di soft pressure, io credo molto in questo, cioè bisogna fare delle email di ketchup, tutto quello che vogliamo, però senza essere troppo pressanti perché altrimenti traspettiamo quell'impazienza che spesso viene vista come un mancato contatto con il mercato e quindi con l'interlocutore è una mancata forma di rispetto. Contare fino a 10 sempre, anche se i risultati tutti vorremmo raggiungere di subito, ma fare sempre un riferimento al settore in cui decidiamo appunto di intervenire. Mi piace moltissimo questa, mi dà quasi l'idea della goccia che continua a colpire la pietra, che prima o poi comunque la modella, la modifica però con dei tempi che sono se vogliamo quasi impercettibili ed è in effetti uno splendido suggerimento pratico per togliere un po' quella sensazione di star perdendo tempo, aspettando, invece come utilizzare, diciamo l'idea è quella di pensare ok come posso utilizzare questo tempo per fare che cosa oltre che a continuare a fare gocciolare la goccia? Che cos'altro avete fatto con quel tempo a disposizione? Avete magari utilizzato quel tempo per migliorare ulteriormente il prodotto, per sviluppare una strategia parallela? In che altro modo hai sfruttato questi 5-6 mesi di tempo che ogni volta magari ti si profilavano di fronte? Naturalmente per cercare sempre di controllare, di verificare la strategia che avevamo appunto definito in precedenza. Un lavoro di revisione non fa mai male, non è mai una perdita di tempo. Poi io ho la fortuna di lavorare in modalità smart working, l'azienda è basata appunto a Modena, abbiamo una collaborazione con Cambridge in Inghilterra, lavorando sempre da remoto in qualunque punto ormai perché riesco a trascorrere solo due giorni a settimana ormai a Modena e questo ci ha anche permesso di trovare il modo di dedicarci anche al nostro tempo perché poi ricordiamoci una cosa, va bene la revisione, va bene essere concentrati sui nostri progetti imprenditoriali, consulenziali, quelli che siano, ma è bene anche concentrarsi su se stessi e cercare il contatto anche con quello che ci fa stare bene. Quando ci sono stati anche dei tempi morti, non lo nego, io mi sono dedicata a qualche viaggio che poi mi ha aiutata anche ad avere delle nuove idee, mi sono dedicata alla mia famiglia perché la mia famiglia è lontana. Ho trovato sempre dei modi in cui trovare quel, come impiegare quel tempo per fare in modo di raggiungere appunto un mio benessere personale perché se stiamo bene noi, naturalmente in azienda si sta bene, si sta bene con i propri partner sia professionali che nella vita privata, si sta bene con tutti gli interlocutori che abbiamo di fronte. Quindi mai vedere il tempo come una perdita di tempo ma sempre come un modo per sfruttare quel tempo anche buca per dire ok, provo a rigenerarmi e provo appunto a fare una revisione di quello che è stato fatto finora. Questo è ottimo soprattutto per chi, come spesso succede o a donne in carriera o a donne imprenditrici, non si stacca mai perché ormai è un'abitudine cercare di riempire quel poco tempo che abbiamo per noi con qualcos'altro. L'idea di stare sedute sul divano a fare nulla, anche se non siamo in vacanza, ma semplicemente fare una pausa e berci una tisana è impossibile perché intanto rispondiamo alle mail, guardiamo Whatsapp, controlliamo che ci sia arrivato non lo so quel messaggio che stavamo aspettando e la cosa continua all'infinito ed è ormai un'abitudine. Quindi mi piace molto il fatto di dire beh, se non posso crearmi dello spazio perché magari la mia tendenza è quella di non staccare mai, appena mi arriva un tempo morto forzato perché comunque devo aspettare, punto e basta, dire ok questo tempo lo posso utilizzare senza troppi sensi di colpa visto che comunque è arrivato lui per appunto rigenerarmi e senza vederla come dici tu come una perdita di tempo ma come un investimento in se stesse che poi ci genera tempo perché ci dà energie creative e ci dà molta più ispirazione e motivazione. Questo è verissimo ma anche la lettura, una lettura che anche non necessariamente è collegata a quello che stiamo facendo, l'ascolto della musica, bisogna mai essere schiavi della propria vita, io lo dico sempre, ma trovare sempre un motivo valido per svegliarsi la mattina con il sorriso e andare a letto la sera con un altro sorriso ancora e dire questa giornata è stata positiva e proficua per me. Lo dico anche perché in passato ho avuto delle esperienze lavorative che non mi hanno permessa di avere sempre questo senso positivo ma era più un senso di un obbligo quasi, come a dire ok devo portare a casa la mia busta paga a fine mese, inizio mese quello che siano ed era quasi un'imposizione che mi davo. Vivere di imposizioni non fa bene, sicuramente trovare sempre una motivazione valida per tutto quello che si fa è il modo giusto per agire e io lo dico sempre. Nel nostro caso abbiamo un progetto medicale quindi c'è anche la parte etica, la parte sociale che ci spinge sempre di più ad andare avanti ma anche per il progetto sportivo, c'è la volontà di migliorare le performance di un utente quindi trovare sempre quel feedback positivo in grado di dire ok sto facendo la cosa giusta o se non la sto facendo la cosa giusta cosa posso fare per migliorarla? Si cresce sempre come ho detto in altre occasioni tutto segna ma tutto insegna quindi da tutto è giusto trarre un insegnamento per migliorarsi giorno dopo giorno. Ti sei mai svegliata una mattina pensando sto sbagliando tutto? Si mi è successo prima di iscrivermi al master appunto nel 2013 e quindi anche prima di conoscere il mio attuale socio. Io ero in provincia di Napoli ero tornata dai miei genitori dopo dell'esperienza all'estero anche universitaria. Gestivo una cooperativa erogante servizi a supporto ai centri abilitativi. L'ho fatto per due anni ma non ero motivata quindi un bel giorno la mattina non è motivata mi sentivo quasi come la classica figlia di papà a casa con i propri genitori tornata che non ha il problema di dover trovare soldi per un rifornimento perché tanto la macchina c'è il rifornimento sempre tutti sabato che mio padre prendeva la macchina non avevo il problema di andare a fare la spesa di pagare le utenze e non ero soprattutto motivata nel lavoro sempre un lavoro nel socio sanitario assistenziale però mi sentivo più vittima e schiava di quel lavoro e non ero motivata affatto. Un bel giorno mi sono svegliato e ho detto ai miei genitori io mollo tutto e vado su a Milano perché ho trovato un master in imprenditorialità e strategia aziendale e mi hanno dato della matta ma della matta fuori di testa mi è stato dato anche quando poi ho conosciuto Enrico e ho deciso di investire in Neuronguard quindi la mia vita è fatta di pazzie e se qualcuno non mi dà della matta vuol dire che non sto facendo la cosa giusta in quel momento. Quindi ti chiedo a questo punto diciamo che tu hai sognato in grande fin dall'inizio nel senso che poi dopo quando hai deciso appunto di abbracciare questo nuovo progetto è stata un'incognita con la I maiuscola. Ci sono situazioni a tuo avviso in cui sognare in grande soprattutto per chi di noi vuole creare qualcosa può rivelarsi controproducente o meglio ti riformulo la domanda come possiamo sognare in grande in maniera tale da non ingannarci da non illuderci da non inseguire un miraggio che comunque rischia di farci svegliare un giorno guardarci dietro e dire oddio se avessi fatto qualcos'altro se avessi accettato i feedback che mi arrivavano se fossi guarita dalla mia pazzia forse non sarei qui oggi. Non perdendo mai il contatto con la realtà ma nemmeno con se stessi e non essere mai presuntuosi. Quello che paga molto nel mondo professionale o comunque in generale nella vita è l'umiltà. L'umiltà di saper accettare anche un commento negativo e di saper affrontare quelli che sono degli ostacoli anche ad un progetto. Sempre parlando con degli esempi pratici in riferimento al nostro progetto noi partiamo come un collare refrigerante quindi inizialmente il nostro collare doveva essere utilizzato solo per ipotermia terapeutica. Ma poi il mercato si è spostato sempre di più verso la gestione della temperatura quindi un'esigenza di dire è giusto fare prima una temperatura mirata al freddo e poi portare sul mercato un dispositivo che consenta al paziente anche di tornare a quella situazione di normotermia. Se noi avessimo continuato a pensare al nostro dispositivo solo come un collare in grado di fare freddo detta molto semplicemente avremmo sicuramente perso il contatto con il mercato e quindi con la realtà. Bene essere innamorati di quello che si fa ma non essere troppo vincolati all'idea iniziale. È un po' come i bambini. I bambini quando crescono bisogna lasciarli andare, bisogna lasciarli cadere e bisogna lasciare appunto che possano fare delle esperienze di vita. Nel nostro caso è la stessa identica cosa. È giusto commettere degli errori perché si commettono degli errori ma sempre trovare da quell'errore una lezione di vita che poi possa aiutarci a migliorare sempre di più quello che è il nostro progetto. Quindi in soldoni appunto mai essere presuntuosi, sempre tanta umiltà e un continuo contatto con la realtà e con gli interlocutori di riferimento perché i feedback aiutano sempre in qualunque momento. Importantissimo questo soprattutto per chi crea appunto un progetto e se ne innamora. Hai usato una parola giustissima no? Ci sono molti imprenditori o imprenditrici quindi in genere non ha importanza ma che proprio considerano e chiamano il loro progetto il proprio figlio, il proprio bambino. E tu hai usato una metafora splendida perché poi anche se fosse davvero un bambino comunque ad un certo punto devi modificare anche le modalità di comunicazione col tuo bambino, devi modificare il tuo approccio. Il bambino cresce e ha delle caratteristiche e così anche il progetto. Quindi questa idea di fare pivot continuo, di cambiare direzione che non significa appunto rinunciare ma potrebbe voler dire anche tornare sui propri passi e ripartire. Mi piace sempre dire che quando cambiare direzione mentre ci stiamo già muovendo è molto più semplice che non pianificare l'impossibile e poi non partire mai perché non c'è mai il momento perfetto, non c'è mai l'interlocutore ideale, non c'è mai abbastanza budget, non c'è mai un mercato sufficientemente grande e l'inerzia cresce, cresce, cresce e a un certo punto muoversi diventa impossibile. È come quando dopo vent'anni di sedentarietà decidiamo improvvisamente di correre una maratona. è impossibile, cioè non ce la faremo mai. Quando invece piccoli passi ci permettono anche di esplorare quella che può essere la potenzialità del nostro progetto, essendo piccoli possiamo anche come dire fare pivot e modificare, ma siamo già in moto, siamo già in movimento e quindi facciamo molta meno fatica anche a fare un'inversione a U e ripartire. Esatto, esatto. Io poi parto sempre dal rifiuto di mio padre perché quando vivevo ancora con i miei genitori a 18 anni, io dall'età di 14 anni seguivo sempre un po' l'azienda di famiglia durante il periodo estivo. Io avevo a pochi passi la costiera amalfitana, però trascorrevo le mie giornate più in azienda piuttosto che prendere il motorino e andare appunto al mare. Era così tanto innamorata del progetto appunto aziendale di mio padre che avevo intenzione di continuare quindi quello che era stato fatto da lui in precedenza. Ma mio padre quando glielo proposto mi ha detto no, questo non fa per te e mi raccomando se hai un sogno fai di tutto per poterlo realizzare. Questo rifiuto mi ha segnata sicuramente, all'inizio non l'avevo capito perché mi sono sentita rifiutata, però in realtà è stato il momento in cui ho capito di dover sempre accettare quello che veniva dato dagli altri. Il cambiamento è necessario, soprattutto poi quando ci viene suggerito da chi ha più esperienza di noi. Da lì ho iniziato a viaggiare, ho iniziato a fare le nuove esperienze, quindi ringrazio sempre mio padre per avermi detto no a 18 anni e per avermi permesso a distanza di 15 anni di poter raccontare tanto della mia vita ma tanto anche della nostra esperienza imprenditoriale perché senza quel rifiuto e senza quel cambiamento io non sarei mai arrivata a quella che appunto sono oggi, alla persona che sono oggi, alla donna che sono oggi. Mary quali sono a tuo avviso le minacce principali che vedi profilarsi all'orizzonte nel momento in cui comincerete a divulgare questo progetto anche fuori dal suo contesto di riferimento, quindi più ad un pubblico di massa, quindi a livello di strategia di comunicazione? Uno l'abbiamo già toccato, che è quello del tempo, naturalmente, quindi definire un calendario temporale che sia allineato con quella che è appunto la strategia comunicativa e con quelli che sono i messaggi che intendiamo diffondere. La seconda minaccia sono le risorse finanziarie perché poi naturalmente nel nostro caso veicolare un messaggio sbagliato con appunto la mancanza delle risorse finanziarie è quell'elemento che poi non ti consente di raggiungere l'interlocutore di riferimento. Poi parlando in questo caso con degli ospedali, dei centri di riferimento o comunque con delle aziende medicali che sono già player di riferimento in questo settore, senza risorse finanziarie è veramente difficile raggiungere. Terzo competenze. Competenze mi riferisco all'affidarsi o comunque a persone che abbiano appunto delle competenze e comunque delle esperienze già in questo settore, mai affidarsi a chi non ha avuto alcuna esperienza perché altrimenti si rischia appunto di non superare questa minaccia e di rendere questa minaccia un punto di debolezza nostro interno che non riesce appunto ad essere superato. Quindi minaccia tempo, soluzione calendario cercando anche di creare un calendario equilibrato per cui non diventare vittime della propria comunicazione e essere risucchiati in un vortice senza fine perché poi soprattutto quando utilizziamo i mezzi del web è un vortice che ci risucchia e poi ci toglie anche l'ultima goccia di energia che possiamo avere per portare avanti il progetto. Poi l'ultima di cui hai parlato appunto evitare di affidarsi a chi parla ma non sa e ahimè è molto diffusa questa tendenza quindi soltanto persone che mi viene da dire potrebbero anche essere meno estroverse o meno abituate a comunicare che però hanno delle competenze tali per cui quando noi ci mettiamo a sviluppare una strategia di comunicazione diventano degli assetti fondamentali. Esatto, il linguaggio è fondamentale in questo senso, bisogna sempre adottare un linguaggio che sia coerente con quello che è il mercato di riferimento. Nel nostro caso poi la parte tempo è tanto una minaccia quanto in realtà un'opportunità perché avendo ora un progetto che si sta sviluppando in due settori completamente diversi che tra di loro non comunica ci sta permettendo di appunto impostare e pianificare una strategia che poi possa trovare anche delle sinergie perché senza mai dimenticarsi che Neuron Guard è un sistema di gestione della temperatura ora che possa essere utilizzato in un ambito medico piuttosto che in un ambito sportivo piuttosto che in un ambito anche riabilitativo. è una strategia nostra. L'importante è che l'interlocutore abbia sempre un messaggio chiaro legga sempre un messaggio chiaro e capisca ok qui si sta parlando di Neuron Guard quindi linguaggio semplice, persone competenti, non estroverse ma l'importante è che appunto possano adottare un linguaggio che sia giusto con quello che è il messaggio chiave che vogliamo appunto trasmettere agli altri. Invece a livello budget hai detto questa resta sempre una minaccia quindi se ho ben capito il rischio potrebbe essere quello di utilizzare il budget per una strategia comunicativa non efficace e a quel punto il budget si è esaurito. Il modo per aggirare questo problema? Il modo per aggirare questo problema a livello budget è quello di dire ok provo anche a fare dei nuovi progetti a crearne degli altri in modo che la cassa non possa mai andare in un livello ok dove troviamo altre risorse finanziarie. Quello è una minaccia sicuramente anche non solo da un punto di vista di strategia comunicativa ma da un punto di vista di progetto imprenditoriale medicale nel complesso perché per la strategia comunicativa ormai ci sono così tanti strumenti che ci consentono di raggirare questo ostacolo della difficoltà appunto finanziare ma parlando nel complesso di Neuron Guard progetto medicale naturalmente la risorsa finanziaria quindi i money soldi è la cosa di cui abbiamo più bisogno appunto per poter far crescere sempre di più il nostro progetto. Quindi potremmo riassumere il tutto nel dire evitiamo di mettere tutte le uova in un paniere cerchiamo di diversificare un minimo e che vale per qualunque progetto imprenditoriale e poi la diversificazione non necessariamente deve essere un nuovo progetto ma possono essere i canali di utilizzo il web ad esempio offre delle modalità di comunicazione molto più economiche di quanto non possa essere l'apparizione su un giornale stampato. Bellissimo, infatti noi abbiamo sempre rifiutato le interviste su carta stampata, quelle a pagamento ci siamo sempre affidati all'utilizzo dei nostri social network o del nostro sito quindi al web nel complesso proprio per trasmettere i nostri messaggi e definendo noi una strategia chiara ed efficace e non affidandoci a dei mezzi a pagamento o degli strumenti a pagamento che poi permettevano appunto, non ci permettevano di poter destinare magari quella parte di budget in scopi di ricerca o anche nel pagamento di figure professionali in grado di poter fare un certo lavoro. C'è un canale social, visto che hai nominato appunto gli aspetti social anche all'inizio della nostra chiacchierata un canale che si è rivelato o a tuo avviso si rivelerà particolarmente efficace per questa nicchia dove tu lavori che è molto peculiare, mi verrebbe da dire non molto social media friendly non si parla di moda, non si parla di cibo, non si parla di soldi quale potrebbe essere questa piattaforma a tuo avviso? Io quello che nel corso dei nostri anni naturalmente abbiamo utilizzato sempre tutte le piattaforme da LinkedIn a Facebook a Twitter. Nell'ambito medicale credo funzioni molto Twitter. Twitter naturalmente è anche un tweet, pochi sono davvero molto efficaci. In questo momento la nostra strategia comunicativa è molto al di là dei social, è molto più partecipazione ai clienti, aventi e fiere. Però l'ambito medicale tra LinkedIn e Twitter sono i social comunque di riferimento, ma anche Facebook. Su Instagram ancora non ho visto delle aziende medicali presenti con il prodotto medicale in sé ma piuttosto con delle strategie, con delle fondazioni collegate o comunque con degli interventi, con degli eventi a cui loro partecipano in questo senso qui. Sì sicuramente, però i social dipendono sempre dall'interlocutore di riferimento ma credo che Twitter sia quello migliore in questo momento appunto per l'ambito medicale. Fantastico, questa è una grande dritta anche perché ricordo sempre a chi ci ascolta che il tentativo di essere ovunque con il proprio progetto, perché poi il web dà questa illusione. Possiamo raggiungere chiunque e parlare a tutti in qualunque momento. Più parliamo a tutti e cerchiamo di parlare a tutti, più finiamo per non parlare a nessuno perché poi il messaggio si diluisce e appunto come dicevi tu Instagram è un social network molto giovane peraltro, proprio per l'audience molto giovane che vi partecipa e noto proprio delle discrepanze enormi a seconda della ninchia di riferimento. Quindi sai dire, per questo ti chiedevo perché non esiste il social network, esiste certo quello che va più di moda adesso piuttosto che quello che andava più di moda due anni fa, ma di fatto in certi settori, certi social funzionano molto meglio di altri. A quel punto conviene concentrare le nostre energie in pochi ma buoni piuttosto che cercare di essere ovunque, di parlare tutte queste lingue diverse perché ogni social parla una lingua a sé, adattarle alla comunicazione nostra e diventa un lavoro enorme che poi esce anche dal nostro controllo perché ci diluisce senza motivo. Infatti quello che dico sempre è di non seguire la moda, ma seguire quello che è il nostro cliente di riferimento, vedere come si muove sui social e il tipo di comunicazione che cerca appunto di fare e trovare dei punti di collegamento, dei punti dove appunto il nostro cliente di riferimento possa in qualche modo essere interessato a quello che noi stiamo comunicando. La moda in questo momento sia assolutamente Instagram, ma anche gli altri social usati nel modo giusto e con un linguaggio coerente con quello che è appunto il nostro mercato possono dare dei risultati significativi oggi e con un budget ridotto, lo sappiamo questo. Assolutamente, quindi mai puntare sul volume ma sempre sulla qualità, quindi anche un'audience un pochino più ridotta, ma esattamente l'audience che è interessata a quello che stiamo facendo piuttosto che avere appunto milioni di followers che in realtà lasciano il tempo che trovano in un settore di nicchia. Fantastico. Mary, a livello di mindset che è una donna, e parlo di donne soprattutto perché noi siamo prese da mille insicurezze, spesso ci troviamo ad affrontare i rifiuti che magari gli uomini non ricevono proprio per gli stereotipi, per abitudine, se vogliamo, di una società che soprattutto in un settore come quello medicale è magari più incentrata nel talento maschile. Che mindset dobbiamo abbracciare in qualità di donne al di là del settore in cui lavoriamo per avere successo con il nostro progetto e per non lasciarci scoraggiare? La prima cosa che dico è quello di non nutrire alcuna gelosia nei confronti delle altre donne, anzi, quello di fare rete, di non avere il timore di condividere la propria idea o il proprio progetto per il timore di essere o copiate o giudicate, perché il giudizio tante volte appunto fa male. Vedo sempre nella condivisione io un momento di arricchimento continuo. Condivisione mi riferisco sia al racconto di quelle che sono le proprie esperienze, che all'ascolto di quelle che sono le esperienze altrui. Questo è uno degli elementi principali, poi soprattutto quello di farsi avanti, non avere il timore di dire qualunque cosa, perché a volte anche una battuta non è necessariamente una brutta figura, ma è un modo per farsi notare. L'importante è individuare sempre un linguaggio che sia coerente con l'interlocutore che abbiamo di fronte. Io poi lo ripeto sempre, ero una persona molto molto timida. In classe mi nascondevo, facevo fatica ad alzare la mano, a proporre la mia idea. Ma questo lavoro e un po' anche l'esperienza, il fatto di essere circondata da persone più del sesso maschile che del sesso femminile, ad un certo punto vi sono chiesta, ma perché loro sì ed io no? Cosa mi manca? In realtà non ci manca nulla, ci manca solo tanta forza di volontà. Il tempo necessario di dire ora mi dedico a questa cosa e non cerco di fare tante cose contemporaneamente, lo vogliamo essere anche molto multitasking. Cioè il fatto di dover fare più cose contemporaneamente è un po' la medaglina d'oro che ci dobbiamo apporre necessariamente sul nostro cuore per dire siamo in gamba. No, l'essere multitasking in realtà alcune volte fa molto molto male. Meglio dedicarsi ad una sola cosa alla volta in alcuni momenti, meglio non nutrire alcuna forma di gerosia nei confronti delle altre donne, ma di sostenerle e sostenerci. Quindi condividendo tutto quello che ci capita nella nostra vita. Perché a volte anche delle esperienze personali possono poi risultarsi utile per un progetto anche imprenditoriale. La nostra idea di impresa è partita proprio da un bisogno in famiglia, da un evento di ictus che appunto c'è stato nei casi della zia di Enrico. Quindi da questo evento in realtà, da questa esperienza personale, lui ha trovato il modo poi di creare un nuovo dispositivo medico. Ecco, mai aver timore di essere insieme agli altri e dire la propria opinione. Sempre farsi avanti, alzare la mano e avere il coraggio. È una forte passione per dire posso farcela anche io oggi. Ti sei mai trovata in una situazione dove il fatto di essere donna in un contesto così scientifico ti ha messo in soggezione e ti ha fatto avere paura di alzare la mano? Tante volte, tante volte ed è il motivo per il quale ai convegni medici, quelli prettamente medici, c'è sempre Enrico o comunque C, non ci sono più io. Perché il convegno medico non rientra nelle mie competenze. Io sì, con questo progetto imprenditoriale ho appreso tante nozioni, però è giusto anche riconoscere i propri limiti. Quindi se non sono dalla parte medica, è giusto mandare chi è del settore. O in altri casi sono stata definita come la segretaria, con lei che preparava le presentazioni, i pipiti, come dicono in generale, per gli eventi o per le altre cose. Ma quando mi vedevano poi presentare queste cose, dicevano ok, l'abbiamo sottovalutata invece. La paura c'è sempre, però quello che dico sempre, non trasformare la paura in ansia, ma in un modo per dire posso farcela, contare fino a 10 e dire anche io ho le carte in regola per poter dire la mia e avere il coraggio di raccontare quello che sto facendo e quello che posso fare. Quindi diventare una sorta di leader by action, esempio, quindi utilizzare le proprie azioni, non necessariamente la propria immagine che può giustamente essere sminuita in un contesto dove magari è un po' il pulcino nero della situazione, la pecorana della situazione, perché le persone non sono abituate magari a vederci in un contesto come questo e dire ok, neanche io credo con la voglia di dimostrare qualcosa per vendicarsi di un torto o cose di questo genere, ma semplicemente, come dici tu, concentrarci su quello che sappiamo essere il nostro potenziale, la nostra capacità e giocarsela al meglio, sapendo che naturalmente potrebbe anche non essere accolto come speriamo, ma poi abbiamo tutti gli strumenti che ci hai condiviso oggi per dire ok, il feedback ricevuto, vediamo come posso integrarlo e procedere, oppure come posso allearmi con qualcuno che possa darmi una mano a compensare questa carenza che mi è stata detta di avere. In realtà non solo giocarsela al meglio, ma anche giocarsela nel momento giusto, perché poi tante volte abbiamo studiato così tanto o preparato nel migliore dei modi possibili un progetto e poi non si presenta l'occasione appunto di poterlo presentare o comunque abbiamo delle idee valide, ma che non è il momento giusto per condividerle. Bene avere appunto delle idee chiare, ma trovare sempre il momento giusto in cui parlare. A volte una frase detta in un momento sbagliato può veramente porci in qualche difficoltà, porci qualche ostacolo. Contare fino a dieci, a volte aiuta, non essere tanto tempestive o avere quell'irroenza di dire devo assolutamente dire qualcosa. Meglio un'unica parola, ma detta in modo coerente ed intelligente e non dieci cose dette in modo un po' così, piazzate lì tanto per dire una cosa. Perché poi se l'interlocutore ha un livello di un certo tipo, rischiamo di apparire come quelle persone superficiali e in realtà è l'unica cosa che non bisogna mai fare. E questo direi a livello di comunicazione, di strategia, di comunicazione chiude il cerchio in maniera perfetta Mary. Se dovessi chiederti chi è una donna che dovrei intervistare dopo di te, che ti verrebbe in mente? In realtà mi vengono in mente tante donne, ma se dovessi dire solo una, una mia carissima amica, collega ed altro, Francesca Corrado. Francesca Corrado che è stata la prima donna in Italia o comunque la prima persona in Italia a creare la scuola del fallimento. E da quella scuola del fallimento poi è nato un suo libro che uscirà appunto in questi giorni, che è l'elogio del fallimento. Ed è, lei ha tanto da insegnare da un punto di vista di strategie comunicative, da come in realtà il fallimento non è un ostacolo, ma un modo per dire, ok, c'è sempre un modo per andare avanti, osare per sbagliare. Ed è questo il messaggio principale. Quindi se dovessi pensare ad una persona, la prima che mi viene in mente è lei, proprio per i messaggi giusti, non giusti, ma per i messaggi che vogliamo trasmettere da un punto di vista di strategia comunicativa e da quanto noi donne abbiamo la necessità di reinventarci continuamente. Fantastico Mary, io ti ringrazio davvero tantissimo per essere stata qui con noi oggi. Grazie a te, è stato un vero piacere e spero di aver trasmesso quello che c'è appunto di più bello in questo mondo. Ragazze, grazie per averci seguito, grazie ancora a Mary per essere stata qui. Vi ricordo che sotto l'episodio troverete tutto il minutaggio preciso di ogni tema che abbiamo affrontato oggi. Mi raccomando, condividete qui sotto i commenti del video o dell'audio, se state ascoltando, l'idea che vi ha colpito di più e soprattutto che vi portate a casa per metterla in pratica, perché se non mettiamo in pratica quello che impariamo, che ci stiamo a fare qui? Punto il domanda. Con questo io vi saluto, saluto anche te Mary, una buonissima giornata, una splendida serata. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Biz Academy? Puoi farlo visitando il sito biz-academy.it Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.